Allora, io come cittadino, quello come movimento dell'asfolio alla nostra isola, non sto mai fermo e ho ricondattato nuovamente una delle aziende che già due mesi fa si sono presentate per la soluzione di questo eminente problema. Devo dire che loro erano molto disponibili, hanno detto che mi seguivano sui social vedendo il mio impegno, normalmente loro d'agosto se lo prendevano come ferie, ma erano disponibili di venire sull'isola con i tecnici e quant'altro per trovare una soluzione per scongiurare questo rischio sanitario e anche per il turismo. Avrebbero già dei macchinari pronti per l'emergenza e solo la volontà dei sindici a dire sì, venite, parliamo e loro garantiscono che con questi due macchinari si potrebbe risolvere questa situazione di emergenza per i 40 giorni quando sarà fermo il termovalorizzatore. Io come cittadino e come imprenditore sono preoccupato, non posso essere così tranquillo come sono i sindaci, come può essere De Luca, il nostro presidente, come lo può essere De Magistris, perché noi sappiamo che questo problema della spazzatura non è la prima volta e ogni volta che capita è un pugnale per il turismo che fa male.